La macchina della solidarietà retina non si spegne, proseguono infatti le iniziative a favore delle popodazioni terremotate. E' in programma per mercoledì 28 settembre una serata di beneficenza a favore dei progetti Oxfam Italia nelle zone colpite dal sisma, presso l'Università dell'Oklahoma che per l'occasione aprirà le sue porte alla cittadinanza. L'Università dell'Oklahoma già in collaborazione con Oxfam per quanto riguarda i tirocini dei nostri studenti ha deciso di realizzare questa cena di beneficenza con un menu completo ovviamente pertinente anche alle zone terremotate soprattutto riguardo a quello che può essere la varietà di pasta appunto come per esempio la matriciana. Si potrà partecipare tramite un'iscrizione, ci sono delle pagine Facebook, c'è anche un indirizzo email che si può trovare direttamente sul sito della nostra università e le donazioni potranno avvenire in tre modi differenti. Una donazione per la cena, una donazione per l'aperitivo oppure una lotteria con estrazione a premi. Subito dopo il terremoto appunto il team di emergenza di Oxfam è sceso in campo per valutare direttamente sul posto quelle che erano i bisogni più impellenti e contattando i vari partner locali, le varie associazioni già presenti sul territorio e di fatto stabilendo questa sinergia appunto con GUS, Gruppo Umana Solidarietà, un'associazione appunto specializzata in contesti di emergenza e finanzieremo l'allestimento di una serie di postazioni mobili e fisse di supporto e di sostegno psicologico alle persone colpite dal terremoto cercando di raggiungere anche le frazioni più isolate postazioni ovviamente presidiate da personale specializzato sia psicologi che volontari addestrati. Grazie a tutti.